Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Torniamo indietro al 13 gennaio 2012, una data che ha segnato la scomparsa di Roberta Ragusa, un enigma che per anni ha sfidato ogni tentativo di soluzione. Eppure, proprio quando sembrava che tutte le speranze fossero perdute, il destino ha scritto un nuovo capitolo, sorprendente quanto inatteso. Immagina la scena, una dipendente, lavoratrice presso la stessa azienda di servizi comunali di San Giuliano Terme che impiegava Antonio Logli, l'uomo condannato per l'omicidio di Ragusa, decide improvvisamente di rompere il silenzio. Questa donna, che per anni ha custodito un segreto, si è trovata di fronte a un bivio morale. Ascoltando la voce della propria coscienza, ha scelto di confidarsi con un dirigente dell'azienda, rivelando informazioni che potrebbero cambiare il corso della storia. E quale fu la rivelazione? All'interno di un furgoncino di servizio, utilizzato non di raro da Logli, la donna ha scoperto due fazzoletti macchiati di sangue, un ritrovamento fatto circa un mese dopo la scomparsa di Ragusa. Nonostante il veicolo fosse fermo per un piccolo guasto, tecnicamente era ancora operativo. Questo dettaglio, apparentemente minore, ha innescato una serie di eventi, il furgoncino è stato sequestrato dai carabinieri, dando il via a una nuova fase di indagini tecniche e scientifiche. Questo sviluppo inaspettato riapre un caso che molti ritenevano concluso, dimostrando come la verità possa emergere anche quando meno ci si aspetta.